Nella clinica Villa Bianca di via Bernardo Cavallino a Napoli si eseguono 2000 parti all'anno eppure il reparto nascite sta per essere chiuso dalla proprietà. 30 lavoratori perderanno il posto e questa mattina hanno dato vita a una protesta davanti la sede del commissariato ad acta della sanità regionale campana al centro direzionale per chiedere un intervento al fine di evitarne la chiusura. Quindi è un punto nascita importante e la chiusura destabilizzerebbe anche gli ospedali che verrebbero affollati dalle persone che chiaramente non possono più venire da noi. A seguire senza l'ostitrici e la ginecologia anche il resto della clinica è in pericolo. Siamo più di quasi 100 famiglie e andremo in strada 100 famiglie per cui è importante che la clinica sia aperta e per il lavoro e anche per un fatto di utenza come dire cioè voglio dire a Napoli gli ospedali già soffrono. Si figuri se chiudesse la nostra clinica. I lavoratori rappresentati da Fulvio Pacca della funzione pubblica CGL temono che dopo il punto nascite possa chiudere anche l'intera struttura sanitaria. Noi siamo qui stamattina sulla struttura commissariale per essere ricevuti per chiedere al commissario cosa intende fare sulla questione del punto nascita e sui licenziamenti. Noi crediamo che sia altamente ingiustificato chiudere un punto nascita che fa oltre una parte all'anno anche perché si aprirebbe un problema di carattere sociale immenso e conseguentemente perdere 30 posti di lavoro. La risposta credo che debba darla le istituzioni. Noi crediamo che la vicenda sia grave perché siamo arrivati nonostante tutto a questo quindi stamattina siamo qui per chiedere questo un incontro urgente al commissario.